Mazza le occhiemi se vedono l'ostante il correttore. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla giocherina in questo nuovissimo vlog tipo un'eternità che non ne faccio uno però vista l'attuale situazione che si è creata riguardo appunto l'ormai famosissima serie italiana presente su Netflix Strappare lungo i bordi del ormai famosissimo comunque fumettista Zero Calcare era già appunto famoso per i suoi fumetti mi sembrava il caso magari un attimino di di parlarne no perché comunque dire la mia riguardo certe questioni è una cosa che ho sempre fatto fondamentalmente anche se vi dirò sinceramente ragazzi attualmente come come la società oggigiorno non non sono più tanto invogliata a dire quello che penso perché non appena apri la bocca comunque la gente ti si divora vivo quindi cerco un attimino di starmene più per i cazzi miei per cercare comunque di sopravvivere in santa pace ragazzi tanto comunque il discorso di base effettivamente che riguarda proprio questa quest'argomento qua di cui vi sto per parlare fondamentalmente è questo ragazzi allora perché perché appunto parlarvi di questo ragazzi allora io la serie in questione che insomma è stata pubblicata su Netflix pochissimo tempo fa è uscita veramente da poco non l'ho ancora guardato ho guardato soltanto il primo episodio ok quindi io non andrò ad esprimere un parere sulla serie in sé ma su tutta la questione ragazzi assurda che si è venuta a creare proprio riguardo questa serie adesso vi spiegherò il perché molto probabilmente la maggior parte di voi la polemica già sa di cosa parla ma comunque ve lo spiego brevemente chi non conoscesse ragazzi Zero Calcare appunto è un fumettista come vi dicevo è romano e quindi insomma ha voluto utilizzare il suo dialetto insomma il suo accento il suo dialetto anche appunto nella sua serie tra l'altro una serie che ha riscosso anche un immenso successo ecco quindi questo è da sottolineare perché non è che c'è stata insomma solo la polemica e basta la serie ha riscosso veramente tantissimo successo se non sbaglio attualmente è la prima serie guardata su Netflix Italia quindi comunque tanto di cappello a Zero Calcare evidentemente comunque il successo che ha riscosso se lo stramerita se lo merita il punto è che ovviamente ragazzi la gente fondamentalmente deve sempre cagare cazzo insomma fatemela di così voglio essere non dico volgare ragazzi ma voglio essere un attimino insomma no un pochettino più verace diciamo così cioè di le cose un po' come stanno non starci a gire intorno con altisonanti paroloni la gente fondamentalmente ragazzi deve cagare cazzo e quindi cosa è successo perché giustamente adesso mi direte ma giocherina scusami mi hai appena detto che la serie ha riscosso un successo strepitoso quindi per quale motivo ci stai parlando di una polemica perché ragazzi appunto si è venuta a creare un'immensa direi immensa assolutamente immensa polemica appunto attorno a questa serie per quale motivo come vi dicevo ragazzi appunto Zero Calcare è romano ok ve lo stavo dicendo già poco fa poi come al solito me perdo insomma mentre parlo è romano e quindi insomma sua caratteristica ha voluto utilizzare praticamente questo suo marcato accento anche nella sua serie ok nella serie che è stata appunto pubblicata su Netflix perché è lui stesso insomma il narratore delle vicende all'interno della serie io come vi dicevo ho guardato solo il primo episodio quindi insomma ho presente come è stata impostata la serie e quindi lui è narratore di quello che succede comunque fondamentalmente all'interno della serie di questi vari episodi quindi è stato lui stesso ovviamente a doppiare se stesso nella serie e a quanto pare ragazzi questa cosa non è andata giù a molta gente quindi questa grossa polemica che si è creata ragazzi si è creata appunto attorno a questa questione insomma a questo aspetto della serie molta gente si è lamentata proprio di questo cioè del fatto che Zero Calcare stesso parli con questo suo marcato accento romano e molta gente si è lamentata del fatto che non riesce a capire cosa stia dicendo sinceramente ragazzi sono un attimo interdietta allora vi dirò io ho guardato il primo episodio e effettivamente lui c'ha questo modo di parlare che magari così a primo impatto potrebbe rendere la comprensione un attimino difficile ma cioè da qui ragazzi a dire ma nel senso è proprio il suo modo di parlare ok che poi ci metta pure l'accento romano è un'altra questione un altro paio di maniche però ragazzi da qui a dire che non si capisce assolutamente niente di quello che dice ma di che stiamo a parlare no perché c'è ragazzi veramente gente se non sbaglio forse persone del nord quindi del settentrione se sono lamentate del fatto che non riescono a capire quello che dice e molte altre persone in risposta hanno detto guardate cioè se vedete se dovete romper cazzo utilizzate i sottotitoli per assurdo no e quindi molta gente poi si è messa a scherzare ma quando avete guardato squid game andava bene risentire il coreano insomma e poi legge i sottotitolini ma qui la questione è un attimo diversa ragazzi pure insomma questa battuta e cioè comunque la questione è un attimo diversa comunque stiamo parlando ragazzi di una persona italiana che parla italiano anche perché è vero c'è l'accento romano ragazzi effettivamente c'è il dialetto allora l'accento romano non è secondo me così tremendamente incomprensibile io posso capire se uno mi dice guarda c'è sta uno che mi viene a parlare in siciliano stretto ma lì si parla proprio di dialetto ragazzi non di accento ok perché l'accento è una cosa il dialetto è un'altra quindi allora se uno mi viene a di uno mi viene a parlare in dialetto siciliano stretto allora c'è insomma te faccio un applauso e ti dico guarda c'hai ragione se capisce una ceppa di quello che sta a di come per qualsiasi altro tipo di dialetto ci sono dialetti poi per carità più comprensibili e altri veramente incomprensibili quindi cioè ci può stare ma qui si parla di accento ragazzi nel senso il modo comunque che hanno di parlare i romani che cioè secondo me parlo personalmente non è incomprensibile quindi cioè sinceramente non capisco per quale motivo si sia creata questa polemica assurda attorno a questa questione si è sollevato un polverone tremendo a riguardo e poi si è creata anche un'altra piccola polemica sempre insomma per qualcosa che è stato detto all'interno della serie se non sbaglio che riguarda Biella una roba del genere e i cittadini di Biella si sono offesi perché se non sbaglio lui nella serie dice che tipo vivere a Biella è una cosa tremenda una roba del genere io vi ripeto adesso la serie non l'ho guardata mi sono basata sulle cose che ho letto insomma perché ormai facebook è intasato di strappare lungo i bordi e quindi i cittadini se non sbaglio io di Biella si sono sentiti offesi da questa affermazione cioè allora ragazzi cioè vi ho parlato di tutto di tutto questo di questo casino di questo macello per voler condividere appunto con voi ragazzi un pensiero ok quindi un pensiero che direi tra l'altro in questi ultimi anni mi torna abbastanza spesso in mente che sarebbe ragazzi il pensiero che riguarda che è la nostra società attuale che purtroppo cioè è diventata io direi oserei dire alquanto permalosa ragazzi nel senso che cioè nei tempi in cui siamo chiunque si offende per qualsiasi cosa cioè non tanto neanche per qualsiasi cosa chiunque si offende per la minima cosa ragazzi e cioè io direi un attimino di darci una calmata perché cioè che addirittura i cittadini di Biella si sentano offesi perché magari una persona in una serie ha detto una frase riguardo cioè ma regà ma ci diamo una calmata a me sembra che viviamo in tempi in cui tutti quanti siamo letteralmente sul piede di guerra e siamo pronti a sguainare le spade a gridare all'offesa davvero per la minima stronzata ragazzi cioè ma questo dicevo ma ci diamo una cazzo di calmata cioè chiunque si offende per un non nulla davvero non so quanto questa cosa sia salutare primo e seconda cosa purtroppo ragazzi ci troviamo anche in tempi in cui insomma veramente si sollevano polemiche per le minime stronzate quindi cioè il punto di fondo è sempre quello che o ci si offende per le minime stronzate o si devono sollevare polveroni e polemiche per le minime stronzate cioè adesso ragazzi io vi giuro entro su facebook e vedo questa questione della serie di zero calcare dappertutto polverone assurdo a successo strepitoso chiunque condivide le le frasi e le citazioni della serie che per l'amore del cielo che ci può stare condividi bla 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 eccetera eccetera ma pure questo ragazzi cioè viviamo in sti tempi in cui veramente si sollevano ogni volta oddio si grida al capolavoro per qualsiasi cosa oddio c'è stanno quei periodi in cui si condividono cose soltanto di quello ma è passato squid game qua in italia ci sta insomma zero calcare fra un mese magari sarà un'altra cosa quindi purtroppo viviamo in questi tempi ragazzi in cui cioè le cose passano e volano in un istante e poi ce le dimentichiamo in un istante è tristissima anche questa cosa ragazzi perché magari fra un mese questa questione di insomma di questa serie qua sarà già dimenticata quindi ci sarà un'altra cosa quindi un'altra cosa di cui condividere frasi a destra e a manca e un'altra cosa su cui fare polemico un'altra cosa magari per cui offendersi così tranquillamente vi ripeto ragazzi ultimamente sto anche veramente molto poco sui social perché ho deciso un attimino di distaccarmi da questo mondo fittizio perché comunque è un mondo fittizio in cui tra l'altro chiunque si sente libero ovviamente attualmente di esprimere la propria opinione che per carità cioè ci può pure stare ma il punto non è solo quello il punto è che è un mondo di squali in cui chiunque si può trasformare in uno squalo perché dicevo all'inizio ragazzi ultimamente veramente evito di condividere pensieri opinioni su qualsiasi cosa anche sui social proprio per evitare anche questo ragazzi di essere divorata da un mucchio di squali semplicemente perché magari la pensi in una maniera un attimino diversa quindi è un mondo in cui chiunque può esprimere la propria opinione in cui può offendere o divorare tranquillamente qualcun altro perché la pensa in maniera diversa è un mondo in cui si può polemizzare in una maniera assurda anche per la più minima cosa è un mondo in cui chiunque si offende per un non nulla e per me è un mondo triste ragazzi cioè quindi quello che volevo dire è che non condivido assolutamente tutto questo polverone che si è creato attorno a questa serie ma ragazzi il concetto rimane sempre lo stesso ma guardateve la serie non rompete i coglioni guardateve la serie non rompete i coglioni liberissimi di guardarle e dire non mi è piaciuta punto anche io guardo i film e magari penso ah no sto film non mi è piaciuto ma non vado in giro a rompere i coglioni per andare a demolire un qualcosa che non mi è piaciuto semplicemente perché non mi è piaciuto a me avete rotto le palle questa troppa libertà di opinione ha reso chiunque un opinionista di sta minchia e quindi praticamente chiunque si sente libero di andare a demolire un qualcosa semplicemente perché lui non è piaciuto no non è così che funziona ragazzi guardate le serie e non rompete i coglioni non capite tanto l'accento romano che ancora devo capire dov'è la difficoltà estrema di capire l'accento romano non rompete i coglioni non guardate più la serie se proprio vi disturba così tanto oppure seguite il consiglio di quei simpaticoni che vanno detto metteteci sottotitoli metteteci sottotitoli e non rompete i maroni quindi il concetto di base è semplicissimo ragazzi e resta sempre lì diretto vivete e non rompete i coglioni ciao ragazzi